Per Martini essere presente a Expo 2015 è una grande opportunità di comunicazione del marchio Martini a livello mondiale. Martini è una delle eccellenze italiane con oltre 150 anni di storia e non poteva non essere presente da protagonista nel più importante evento dei prossimi anni che si organizzerà in Italia. Saremo presenti da protagonisti all'interno di Padiglione Italia gestendo direttamente una terrazza che si chiamerà appunto Terrazza Martini presso Expo e all'interno di questo spazio faremo tutta una serie di attivazioni, eventi, convegni, serate di degustazione celebrando le eccellenze italiane del food e del beverage. Continueremo a essere protagonisti soprattutto del momento aperitivo, il momento aperitivo è stato praticamente inventato da Martini e Martini è da sempre il leader dell'aperitivo in Italia e conseguentemente il momento dell'aperitivo preserale e serale sarà il momento clou dell'animazione degli eventi presso Terrazza Martini all'Expo.